Il male risorge dalle tenebre, lì dove hanno cercato di seppellirlo. Atvan, devi tornare a combattere. Se quell'uomo è davvero pericoloso come dici... Cosa sei tu? La resa dei conti di Gotham. La città ha bisogno di me. Il fuoco dell'odio di Vampa, mostrando il vero volto dell'uomo dietro la maschera. Il Cavaliero Scuro, il ritorno. Giovedì alle 21, sul 20.